Oggi per Appetiten siamo da Beefburgher Siamo qui da Beefburg La carne qua è super bella Cioè lo senti proprio appena arriva il panino L'odore è proprio quello della carne rostita E' bellissimo perché subito lo inizi a mangiare già con l'orfatto Io ho scelto un hamburger che è nella riffa america Con carne di angus, cheddar, bacon, cipolle caramellate Potete vedere è bella consistente Il hamburger è veramente grande E comunque l'odore è bellissimo E' qualcosa di meraviglioso E' bellissimo il contrasto tra le cipolle caramellate Che sono dolci Il bacon è buonissimo Veramente super consigliato Insomma poche storie A soddisfazione Poi voglio spezzare E' una lancia In favore della cottura Generalmente a me è la carne rossa Piesce la sauga Però quando mangio il hamburger preferisco una cottura media Perché sennò il pane si va troppo a bagnare E la cottura qua è perfetta Cioè perfetta pronta Le taglate fritte sono fresche Sionena invece ha preso una tagliata di manzo Con pomodolini, rucola e scai di parmigiano Sionena come era la tagliata? Buonissima Insomma ma che ne sanno i vegani? Buonissima 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 Non ho fatto una foto per le social C'erano quelle famiche che hanno fatto una foto di piatto vacante Per esempio Mi invito A mettere un mi piace A commentare dicendomi quello che ne pensate Se vorreste mangiare più Dai soprattutto iscrivetevi al canale Seguitemi su tutti i social Per rimanere sempre aggiornati Insomma vi saluto tenendo le mie patatine Perché il panino è già finito da un pezzo Ci vediamo al prossimo video Cosa 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 Cosa